Ben trovati ad un nuovo tutorial del corso di montaggio video con Adobe Premiere sono Fabio Ambrosi e quest'oggi vedremo la regola dei tre punti e la regola dei quattro punti sono due regole molto importanti, vedremo tra poco perché per un montatore video perché ci permettono di risolvere alcuni piccoli problemini, alcuni piccoli ostacoli che un montatore video può trovarsi ad affrontare prima però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it se volete leggere gli articoli delle lezioni che state vedendo qui su YouTube e molto altro ancora perché chiaramente ho intenzione di riempire questo sito con tanti altri tutorial e tanti altri articoli inerenti al mondo di Adobe vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial e se vi fa piacere venite a trovarmi anche su Facebook, visitate la pagina Fabio Ambrosi basta cercare il logino del mio sito e mettere un semplicissimo like detto questo torniamo in Premiere eccoci tornati in Adobe Premiere come detto oggi parleremo della regola dei tre punti e della regola dei quattro punti quest'ultima regola dei quattro punti diciamo che l'ho nominata io forse un po' così perché se è vero che la regola dei tre punti esiste un po' in tutti i software di montaggio non so se la stessa cosa è valida per questa regola dei quattro punti ad ogni modo chiamatela come volete a breve vi mostrerò la potenza di queste due regolette che più che funzioni sono regolette che possono risolvervi qualche problemino quale problema ci risolvono queste due regole? ipotizziamo che noi abbiamo una sequenza come in questo caso ipotizziamo che a un certo punto della nostra sequenza abbiamo un buco da riempire vedete che io qui ho volutamente lasciato uno spazio vuoto in cui non c'è assolutamente niente ed è uno spazio vuoto composto mi sembra da uno, due, tre, quattro, cinque frame cinque fotogrammi vuoti l'istinto di un montatore cosa farebbe? andrebbe nel monitor di anteprima metterebbe un in conterebbe cinque fotogrammi uno, due, tre, quattro, cinque premerebbe un out posizionerebbe il cursore all'inizio del vuoto da riempire premerebbe il punto ah, e già troverebbe un problema ma come io ho scelto cinque fotogrammi nel monitor di anteprima e qui me ne ha messi soltanto quattro c'è già una piccola problematica da affrontare non so se è un bug di premiere o se è proprio così ad ogni modo premiere a quanto pare in questa versione conta diversamente i fotogrammi nel monitor di anteprima e nella sequenza perché qui abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque fotogrammi vedete che questa linguetta blu ci indica che stiamo considerando questo fotogramma mentre nel nostro monitor di anteprima uno, due, tre, quattro, cinque anche se ne abbiamo selezionati cinque di fotogrammi poi in realtà qui ne vengono portati quattro vabbè ad ogni modo abbiamo un problema non siamo stati precisi non siamo riusciti a coprire questo vuoto con la nostra clip quindi tocca intervenire a mano selezionare le clip sia audio che video posizionarci alla fine della clip compare una maniglia rossa spostare cliccando con il mouse in avanti e riempire lo spazio vuoto non vi preoccupate questa operazione che ho fatto di allungare la clip la vedremo nella prossima lezione per carità si può fare anche così però immaginate di avere un lavoro molto lungo e complesso con tanti vuoti piccolini da dover riempire può capitare se guardate alcuni film alcune serie tv ma anche alcuni programmi televisivi ci sono dei pezzi serratissimi molto veloci che vengono sostanzialmente realizzati inserendo tante immagini in pochi frame Premiere come ci può aiutare per riempire questo spazio vuoto senza dover impazzire contando i fotogrammi ecco qui entra in gioco la regola dei tre punti allora per vedere come funziona intanto puliamo il monitor di anteprima dall'attacco e dallo stacco come si fa? clicchiamo nel mezzo del monitor tasto destro del mouse e clicchiamo in cancella attacco stacco vedete che vengono rimossi l'in e l'out e cominciamo ad inserire questi fatidici tre punti perché tre punti? perché io andrò ad inserire un in e un out sulla sequenza e un in sul monitor di anteprima guardate mi posiziono col cursore temporale all'inizio del vuoto che voglio riempire premo il tasto i per inserire come abbiamo visto l'in vale anche per la sequenza sì assolutamente poi mi posiziono alla fine del mio vuoto vedete che non mi posiziono qui perché io qui sarei già considerando questo fotogramma pieno mi posiziono in questo punto perché questo è l'ultimo fotogramma che voglio andare a riempire premo il tasto o sulla tastiera per inserire l'out ed ecco che dei tre punti fatidici qui ne abbiamo due l'in e l'out nella nostra sequenza e andiamo ad inserire il famoso terzo punto andandolo a scegliere nel monitor di anteprima quindi scegliamo un punto di questo video da voler prendere come punto di partenza da inserire in questo spazio diciamo che vogliamo partire da qui premo il tasto i sulla tastiera per inserire l'in ok e a questo punto mi ritrovo con tre punti un in sul monitor di anteprima un in sulla sequenza e un out sulla sequenza ho tre punti da qui la regola dei tre punti cosa devo fare adesso? semplice premo il tasto punto sulla tastiera il famoso overwrite bam avete visto cosa è successo? premier ha colmato lo spazio vuoto contando i fotogrammi a partire dal punto di in del monitor di anteprima fino a riempire il vuoto che avevo qui nella mia sequenza chiaramente premier non è che ha riempito il vuoto a caso ha riempito il vuoto perché io gli avevo indicato che doveva riempire da un in fino ad un out è molto pratico e guardate come questa operazione sia indipendente dalla posizione del mio cursore temporale io nella lezione precedente vi ho detto che quando andate a fare un overwrite ovvero utilizzate il tasto punto o anche il tasto virgola per l'insert nella sequenza è importante dove posizionate il cursore temporale perché come detto nella lezione precedente quando inserite un in e un out sul monitor di anteprima e poi volete portare l'in e l'out sulla sequenza dovete dire a premier da dove partire quindi posizionare il cursore temporale e poi premere il punto in questo caso invece noi a premier il punto di in e di out sulla sequenza danno l'informazione di cosa vogliamo da dove vogliamo iniziare a riempire quindi se io adesso vado a premere il tasto punto dopo aver inserito soltanto l'in sul mio monitor di anteprima premier a prescindere da dove si trova il mio cursore temporale andrà a riempire il mio spazio chiaramente ora sbaglierebbe perché io qui non ho inserito l'in e l'out quindi rinserisco l'in rinserisco l'out e adesso se io posiziono il mio cursore qui e premo il tasto punto vedete che a prescindere da dove si trova il mio cursore viene colmato questo vuoto ok? questa è la regola dei tre punti molto utile quando bisogna riempire dei piccoli frammenti della nostra sequenza o timeline la regola dei quattro punti secondo voi cosa cos'è il quarto punto? beh è semplice il primo punto è l'in che abbiamo messo prima nella sequenza secondo punto è sempre l'out nella mia sequenza il terzo punto è sempre l'in qui nel mio monitor di anteprima e a questo punto per la regola dei quattro punti dobbiamo fornire un quarto punto e lo prendiamo dove vogliamo nel nostro video di anteprima quindi inserisco un out chiaramente dove vogliamo relativamente nel senso un montatore si spera che sappia da dove iniziare a prendere il video fin dove prendere il video però al di là questo è un corso pratico di come funziona la premiere non stiamo facendo un corso di montaggio teorico quindi è sottinteso che un montatore sappia quali immagini prendere ad ogni modo ne abbiamo a questo punto quattro punti un punto di in un punto di out sulla sequenza un punto di in un punto di out nel monitor di anteprima cosa succede se io premo il punto adesso vi faccio notare come io qui abbia soltanto sei fotogrammi o cinque non ricordo comunque cinque o sei fotogrammi mentre qui ho molti più fotogrammi come si comporterà premiere mi riempirà comunque soltanto il vuoto ignorando poi tutto il re cosa farà proviamo premiamo il tasto punto bam premiere me lo chiede mi dice guarda stai attento perché la sorgente è più lunga della destinazione cosa vuol dire premiere mi sta dicendo che il numero di fotogrammi considerati nel monitor di anteprima tra l'in e l'out sono molti di più dei fotogrammi a disposizione nell'in e nell'out della sequenza e premiere mi chiede come comportarsi e mi offre diverse opzioni mi dice vuoi che io aumenti la velocità della clip di anteprima della clip sorgente in maniera da farla entrare tutta qui dentro in altre parole se io premessi adesso ok premiere mi avrebbe inserito tutto questo blocchettino qui dall'in all'out del monitor di anteprima in soli 6 frame guardate cosa è uscito ecco praticamente ha accelerato questa clip in modo da farla entrare qui dentro perché? perché lui sa che deve inserire qualcosa in questo spazio ma questo qualcosa ha un inizio e una fine e quindi lui quando premo il tasto punto mi avverte io avendogli detto che deve accelerare il video di anteprima sostanzialmente quello ha fatto però vedete che premiere mi offre anche altre posizioni sono anche abbastanza intuitivi e mi dice vuoi che ignoro il punto di attacco del sorgente che vuol dire vuol dire che premiere mi chiede vuoi che io non tengo conto del lean inserito nel punto nel monitor di anteprima e inserisca il video a partire dall'out ecco se io facessi questa operazione non mi ha accelerato nulla ok ma mi ha inserito questo video a partire praticamente dalla fine ok quindi da qui ok andando indietro fino a riempire l'in e l'out presente nella sequenza vediamo le altre opzioni alla nostra disposizione la stessa cosa solo che mi chiede se vuoi ignorare il punto di attacco invece il punto di stacco scusate invece che il punto di attacco in altre parole se io scegliessi questa opzione premiere mi inserirebbe questa clip in sequenza partendo però dall'in chiaramente vedete ok altre opzioni che ci dà a disposizione premiere sono identiche a quelle precedenti ma questa volta si riferiscono alla sequenza ovvero vuoi che io ignori il punto di attacco della sequenza in altre parole premiere mi dice guarda io ti inserisco questa clip presente nel monitor di anteprima dall'in all'out partendo dall'out della sequenza fino ad andare indietro se io scegliessi questa opzione ecco ho fatto un potenziale danno perché premiere mi ha inserito tutto questo pezzettino di clip partendo dall'out stessa cosa se io andassi a scegliere l'ultima opzione a disposizione ovvero ignora il punto di stacco della sequenza cosa vuol dire vuol dire che lui comincia ad inserire il materiale a partire dall'inizio fregandosene sostanzialmente che io gli ho detto che deve fermarsi a un certo punto e infatti lui inserisce tutto questo blocchettino a partire dal punto di attacco della sequenza che era dato dall'in che avevo inserito ok questa è la regola dei quattro punti esercitatevi riguardate questo video più volte se qualcosa non vi è chiaro commentate e chiedetemi delle lucidazioni sarò molto felice di rispondervi magari c'è qualche utente che sta vedendo questo video che ne sa qualcosa più di me magari vuole aggiungere qualcosa vuole rispondere al posto mio siamo in tanti diamoci una mano venite a visitarmi sul sito www.fabbiambrosi.it su facebook e iscrivetevi al canale youtube nella prossima lezione continueremo ancora a lavorare nella sequenza perché vedremo come allungare o accorciare queste clip in altre parole vedremo come inserire delle linee degli out volanti ok e parleremo anche del trim dei punti di editing andremo avanti in questo meraviglioso mondo del montaggio video con Adobe Premiere grazie mille per avermi seguito grazie anche per i commenti che lasciate positivi sono molto contento che questo mio corso possa in qualche modo aiutare qualcuno commentate chiedete pure e ci sentiamo nel prossimo tutorial grazie mille da Fabio Ambrosi alla prossima ciao